Come sei venuta a conoscenza di questa facoltà? Avevo ciccato università prima, mi sono appassionata al marketing. Sono venuta a conoscenza di questa facoltà grazie a degli amici che appunto frequentavano già questo corso. Come raggiungo il campus? Tutti i giorni per adesso e si spera di continuare così, lo raggiungo con la macchina. Raggiungo il campus con una mia amica fidata, Alessia, che mi accompagna ogni giorno in macchina. Prova, prova. Bella! Ciao! Ciao!